Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio delle bestie nascoste come sempre come inizio video vi invito sempre a lasciare un bel like mi piacerebbe arrivare ad almeno 400 mi piace perché ripeto sempre è la serie bestie nascoste che mi occupa un po' più di tempo un po' più complicata da registrare, da montare, un po' faticoso e quindi mi piacerebbe arrivare a un tot numero di like comunque come sempre vi invito a scrivermi nei commenti qualche giocatore che mi consigliate bronzo, argento e oro quindi partiamo subito con i tre di oggi tre giocatori offensivi, tre attaccanti stavolta ovviamente non faccio difensori o portieri perché è difficile registrare quei giocatori però magari qualche caso ci sarà in futuro perciò andiamo subito col primo giocatore, il giocatore bronzo stiamo parlando di Mamadoukone ci andiamo subito a vedere qualche clip stiamo parlando di un giocatore come potete vedere da questa carta molto veloce, ben dotato di velocità e soprattutto un ottimo tiro come dico sempre bronzo con 60 o più di tiro hanno veramente un buon tiro ciò dipende ovviamente dalla loro potenza o dalla loro finalizzazione o quant'altro lui ha una buona potenza tiro tipo di 78 o qualcosa del genere e inoltre ha anche un'ottima finalizzazione che per un bronzo è abbastanza alta di 63 no comunque ha 76 di potenza tiro inoltre ha un buon controllo palla non facile da trovare in un giocatore bronzo così molto veloce e vabbè oltre ad essere molto veloce come potete vedere con l'87 di velocità ha anche ottimi valori di agilità e forza fisica che lo contraddistinguono abbastanza e ha anche un 68 di posizionamento che non è affatto male infatti è sempre in un'ottima posizione pronto per sfruttare le occasioni anche perché ha work rate alto-basso ciò gli permette di attaccare praticamente sempre purtroppo questo giocatore ha solo due stelle piede debole no due stelle abilità scusate perciò non potete fare qualche skill per saltare l'uomo inoltre ha tre stelle piede debole che comunque vanno abbastanza bene di sinistro fa anche qualche gol tranquillamente quindi vi consiglio di provare questo giocatore andiamo invece a parlare del giocatore argento un giocatore molto conosciuto nel senso è sempre stato abbastanza utilizzato in FIFA stiamo parlando di Gibril Sisse ci vediamo subito qualche clip Gibril Sisse è sempre stato un giocatore oro nella storia di FIFA da FIFA 12 a FIFA 14 e soprattutto è sempre stato un giocatore se non sbaglio che aveva 4 stelle abilità purtroppo quest'anno gli ne hanno messe solamente 3 anche però è diventato argento io preferisco per esempio i giocatori argento dai giocatori oro poi ovviamente è un gusto personale però devo dire che ho trovato in Sisse quel bug che era l'anno scorso o gli altri anni che era veramente un ottimo giocatore e praticamente le sue caratteristiche le ha sempre mantenute cioè la buona velocità, comunque l'ottimo tiro, l'ottima finalizzazione e l'ottima forza fisica purtroppo ovviamente gli hanno tolto le 4 stelle abilità che forse potevano anche non farlo non so perché l'abbiano fatto devo dire che comunque è un giocatore anche adesso sempre in posizione 75 di posizionamento è molto buono per un giocatore argento non ha tanto controllo palla quello è vero il che un po' lo danneggia in alcuni casi però devo dire che ci sta comunque è forse l'unica cosa negativa che possiamo trovare in questo giocatore come dico sempre le squadre le trovate in descrizione quindi se siete curiosi di vedere in quale squadra ha utilizzato un determinato giocatore descrizione e l'andate subito a vedere mentre parliamo del giocatore oro è un giocatore che mi avete consigliato in parecchi se non ricordo male stiamo parlando di Miki Basuai ecco vediamo qualche clip di Basuai Basuai come cazzo si pronuncia è davvero un giocatore fenomenale perché io penso che sia uno dei migliori giocatori del gioco migliori giocatori non rari del gioco per intenderci per il semplice motivo che è completissimo tranne per il passaggio vabbè è completissimo ha una discreta velocità che comunque in game si sente abbastanza bene quindi ci sta un ottimo tiro la cosa che mi ha sorpreso la sua finalizzazione che è di 83 per un giocatore valutato 76 è una statistica incredibile inoltre ha un'ottima potenza tiro 78 il che appunto fa partire dei buoni tiri che possono sempre far gol cosa mi è piaciuto anche mi è piaciuto anche il dribbling perché ha molto un buon valore di dribbling e comunque un ottimo valore di agilità e questo serve tantissimo per soprattutto gli attaccanti o comunque i giocatori offensivi una cosa che purtroppo ho notato in questo giocatore che non mi fa impazzire è il suo workhead medio-basso unito al suo posizionamento non altissimo di 72 per un oro non è altissimo potrebbe trarre in inganno questa cosa in realtà ho notato che questo giocatore è sempre in posizione sempre pronto per fare gol e sempre pronto per sfruttare le occasioni che gli capitano quindi provate anche Bashoi e non ve ne pentirete comunque raga i giocatori di oggi erano questi spero che vi siano piaciuti io come sempre vi invito come ho detto prima a lasciare un bel like vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace lasciate un commento consigliandomi qualche giocatore bronzo-argento-oro quello che volete anche se comunque me l'avete scritto in altri video continuate a scriverlo perché mi fa sempre per piacere ricevere commenti iscrivetevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga grazie a tutti